Ciao a tutti e bentornati sul mio canale Allora se vi ricordate qualche mese fa avevo fatto una reaction con la Giulia sempre in questo canale ovviamente di un video di un programma televisivo appunto coreano che è The Unit dove ho partecipato anche Taemin come giudice praticamente ormai hanno formato i gruppi da un bel po' di tempo come vi ho già spiegato nel video e io ne avrei in sostanza due preferiti uno di loro due hanno fatto un MV ufficiale che da quello che ho capito hanno fatto tutte e quattro le squadre maschili bene, il titolo della canzone è All Day ed è uscito appunto l'MV ufficiale via allora prima di tutto ho visto l'esibizione live quindi sarà un po' diverso madonna ok quello che avete visto all'inizio è lui a parte che sono tutti belli cioè non vorrei dire tutti bravi, tutti belli, tutti fantastici la coreografia poi l'amo ma spero non ci sia la parte che si alzi la maglia perché c'è qualcuno bene e anche come si chiama Guan Guanlin potrebbe essere madonna anche lui è tanta roba madonna cosa è questa cosa non voglio che si tolgano cose grazie sì già c'erano le maglie che si alzavano molto bene sta luce rosa fucsie eccolo qua l'altro sono vestiti da dio ovviamente mamma anche lui è bellissimo madonna cos'era quel profilo oddio uccidetemi quei due là creano problemi mamma mia mamma mia cosa è tutta sta violenta cioè sono scioccatissima sembra un misto tra i monsta ex e non so chi ciao aspetta che sono come ti di outfit madonna oddio santissimo quelle robe delle gif che ho visto io cos'è sta cosa tutto bello è quel ragazzo io non lo so questa cosa è stra figa ma ti casa un sacco poi la canzone bella grande bellissimi piani ok ok piccaboo inside ecco lo sapevo che prima o poi l'avessero messo lo sapevo ma 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 kent in questa vita coi due là donna cos'era si va bene si va bene va bene vestiti di rosso cioè già nero creava problemi in rosso è finito è finito unit b si ciao mamma mia fatemi sapere nei commenti se seguite anche voi dei unit perché sono curiosa e se avete trovato magari un preferito l'altro mio gruppo è dove c'è Jun degli Ace e Seon dei My Name però non so se abbiano fatto l'envia anche loro però sono dovete capire che Oh Young o Jong e non so come si pronuncia che cavolo devo impararlo ma degli occio te meraviglioso va bene detto ciò ricordatevi di lasciare un like di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella per non perdere nessun video e noi ci vediamo alla prossima